Adesso veniamo al tema di oggi. Abbiamo deciso di aprire il corso di diritto penale con il convegno sulla violenza sessuale e di reati sessuali e quindi seguiremo in sostanza proprio l'impostazione sistematica del codice nel trattare i reati di un maggiore all'ambiente sociali. Quali sono i reati, i delitti contro la libertà sessuale? Naturalmente la violenza sessuale, gli atti sessuali con i minorenni, la violenza sessuale di gruppo e la corruzione di minorenni. La novella, la riforma del 1996, la numero 66, che reca le norme contro la violenza sessuale, ha stancito con l'articolo 1 l'obrogazione del capo 1 che era collocato nel titolo undicettimo dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume e naturalmente ha trasferito con l'articolo 2 i reati sessuali nell'ambito dei delitti contro la libertà personale. Quindi, cioè in conseguenza del fatto che la libertà sessuale è un insopprimibile corollario della libertà individuale. Quindi la violenza sessuale e tutti gli atti sessuali che ledono la sfera sessuale, da reati contro la moralità pubblica e il buon costume, sono diventati reati contro la persona. Questa operazione di restyling che ha effettuato il nostro legislatore si è concretizzata poi mediante l'inserimento degli articoli che vanno dal 609 bis al 609 del codice penale. E questa, diciamo, modifica che è stata forsemente voluta da tutte le componenti politiche rappresenta l'approdo di un processo, diciamo, innovativo che era stato intrapreso dal legislatore che naturalmente in questo modo ha consacrato la sfera della libertà sessuale come diritto della persona umana, la cui discorribilità naturalmente spesa esclusivamente al proprio titolare. E quindi, diciamo, viene meno l'appartenenza di questo bene al patrimonio collettivo della moralità e del buon costume e quindi non è più legato, diciamo, alla concezione moralistica della società. Ora, per il perseguimento della tutela della libertà sessuale della persona, il legislatore ha incentrato la nuova disciplina sulla nozione di atti sessuali e qui ha eliminato sostanzialmente quella distinzione tra atti di libidine e congiunzione carnale. Quali sono le tipologie di violenza sessuale che prevede il 609 bit del codice penale? Beh, il 609 bit incorpora diverse fattive specie penali, perché naturalmente prima erano, diciamo, suddivite, disseminate in autonomi articoli di legge, tant'è che adesso il 609 bit racchiude la vecchia violenza carnale, quindi l'articolo 519, la congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale, l'articolo 520, e poi gli atti di libidine violenti, ex articolo 521, naturalmente sono stati abrogati. E poi tutti questi tre articoli, 519, 520 e 521, sono congogliati nel 609 bit. E poi c'è una ipotesi autonoma di reato che è il 609 quater, che naturalmente sono gli atti sessuali con i minorenni. Quindi tenendo conto anche della struttura del pazzo tipico, la dottrina prevalente ha distinto nel primo e nel secondo conto del 609 bit la violenza sessuale per costrizione e la violenza sessuale per indossione. Nell'ambito poi della violenza sessuale per costrizione distinguiamo la costrizione mediante violenza, la costrizione mediante minaccia e la costrizione mediante abuso di autorità. Nell'ambito invece della violenza per induzione distinguiamo l'induzione mediante abuso nelle condizioni di inferiorità fisica o fisica e l'induzione mediante inganno da sostituzione di persone. Partiamo quindi dalla violenza sessuale per costrizione. Allora, il requisito naturalmente del pazzo tipico è proprio quello del distenso della vittima alla interrelazione sessuale imposta dal soggetto attivo, quindi dal re. Quindi quando si ha la costrizione? Si ha la costrizione quando l'atto sessuale viene compiuto contro la volontà della vittima utilizzando delle particolari modalità che il legislatore ha pubblicato nella violenza, nella minaccia o nell'avviso di autorità. Ora, che cosa ha precisato però la di studenza? Che il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità. Quindi integra il 609 bis la prosecuzione di un rapporto nel caso in cui il consenso originariamente prestato venga meno in itinere a seguito di un ripensamento o della non condivisione delle forme o quindi delle modalità di consumazione della minaccia. Questa è una cassazione penale del 2004 la numero 25727. La violenza, la minaccia e l'abuso di autorità naturalmente sono delle modalità della condotta, cioè non sono semplici modalità della condotta ma sono dei mezzi di costrizione con cui il soggetto agente, quindi l'autore del reato, coarta la volontà della parte è scritta. E questi mezzi di costrizione della volontà sono, diciamo, alternativi nel senso che si possono presentare congiuntamente o disgiuntamente. E il reato comunque rimane sempre unico. La violenza nella parte specie consiste nell'esercizio di qualsiasi forza critica, anche se non è proprio spinta, diciamo, al massimo della brutalità o dell'irresistibilità. Essenziale è che sia comunque diretta a vincere la resistenza opposta dalla vittima. La minaccia invece consiste nel manifestato proposito di aggregare un danno alla vittima o ad altre persone o alle cose al fine di portare la vittima e quindi farle accettare l'atto voluto di mira dalla gente. Poi c'è l'abuso di autorità, che ricorre ogni volta che il soggetto agente si avvalga di una posizione diciamo di superiorità o di preeminenza rispetto a un altro soggetto. Questo naturalmente comprende tanto l'abuso di pubblica autorità, quindi ad esempio nei confronti di un detenuto o di un arrestato, no? Un proprio ultimo di questi giorni il caso di alcuni, insomma, a quei posti dell'ordine che hanno approfittato di una ragazza che era stata arrestata per un bordo. Poi anche l'abuso di autorità privata, per esempio nei confronti del lavoratore, quindi da parte del datore di lavoro, oppure naturalmente, visto che parliamo sempre di privato, anche nel caso della violenza, dell'abuso contiuto dal docente nei confronti dell'allievo di scuola privata, oppure per esempio tra l'allenatore di una squadra sportiva e gli atleti che fanno parte di questa squadra. Quindi la dottrina poi ha detto sostanzialmente che questa relazione tra soggetto agente e la vittima può anche non essere attuale, però è importante che si si approfittano nel tempo questo timore reverenziale che è stato provocato, diciamo, da questa relazione. La norma richiede il volo generico e è configurabile anche il tentativo. Si configura il tentativo, quindi, nei sensi del combinato discorso, articolo 56 e 609 bis, in presenza di atti che, pur diretti all'altro sessuale, però di fatto non si concretizzano in un approccio fisico. Facciamo degli esempi di tentativo. La violenza sessuale, il tentativo di violenza sessuale è il fatto di chi minacciando di inviare ai parenti di una donna delle foto compromettenti scattate in occasione di incontri amorosi con lei precedentemente avuti, tenti poi di costringerla ad ulteriori rapporti sessuali, sempre però nel caso in cui naturalmente il reato non venga portato a compimento, perché la vittima poi non cede all'immace, quindi abbiamo un tentativo. Stessa cosa anche se, per esempio, c'è un invito a salire in auto accompagnato da altri elementi, come per esempio la condotta pregressa, oppure l'atteggiamento tenuto, le frasi pronunziate, il caso per esempio del reo che nel tentare di flacciare il reggiseno alla vittima, dalla pronta reazione di quest'ultima, riesce a toccarle soltanto le spalle, quindi, oppure a fingere la gamba e non la coscia o altre zone. E questa è quindi la violenza sessuale per costruzione. Poi abbiamo la seconda psicologia, che è quella della violenza sessuale per indizioni. Sostanzialmente in questo caso la norma richiede, diciamo, la cooperazione della parte offesa, nel senso che la parte offesa consente all'interrelazione sessuale, però invalidamente, nel senso che il consenso è stato capito con l'inganno o comunque approfittando delle condizioni minovate della persona offesa. Però, ecco, siamo di fronte sempre a una persona che non esprime liberamente la propria volontà in materia sessuale. Tra i casi di inferiorità psichica possono rientrare, secondo la dirittudenza, lo stato di tossicodipendenza, perché naturalmente la vittima, pur di procurarsi, cioè il soggetto agente, pur di procurarsi gli stupefacenti, è disposto a qualsiasi reazione, quindi anche a cedere il proprio corpo, parliamo della vittima, naturalmente. Oppure l'assunzione di psicofarmaci, così detti tranquillanti, se per esempio dalla somministrazione degli stessi, deriva una sospensione dell'attenzione, quindi dei poteri di controllo, e poi l'assunzione di una quantità di bevande alcoliche, salida a determinare un evidente indebolimento psichico. Anche qui ricorre un piciatra e con un caso, diciamo, della dirittudenza, si concretizza la fattispecie dell'inganno anche mediante la sostituzione di persona, che fa riferimento a un caso che è tutto sommato molto discorso, che è quello di chi avvalendosi dell'oscurità approfitti di una donna sostituendosi al marito di lei. Anche per questa fattispecie è prevista il volo generico. Ora, chi può essere il soggetto attivo di questo reato? E chiunque? Quindi non è un reato proprio, è un reato comune, siamo in presenza di un reato comune, naturalmente salvo per il caso della violenza sessuale comunque intermodiante e abusi di autorità, perché in quel caso occorre una specifica qualifica da parte del soggetto agente. Il soggetto passivo naturalmente deve essere un essere umano in vita, perché naturalmente con le ultime vicende del caso misteri sappiamo che gli atti sessuali consumati in danno ai cadaveri, confuscono poi nel reato di ripendio di cadavere, ex articolo 410, e quindi la necrofilia esula dallo 609 bit e i rapporti sessuali con gli animali hanno rilievo penale sensi del 544 ter o 638. Ma andiamo a vedere adesso quella che è la nozione importante che è quella di atti sessuali. sostanzialmente il legislatore, come abbiamo detto all'inizio, con la novella del 1996 ha unificato la congiunzione carnale e gli atti di libidina nella nozione di atto sessuale. E quindi sostanzialmente questa nozione ormai ha un valore non micomprensivo e quindi viene intesa nella sua complessità. Ma perché il legislatore ha unificato queste due tipologie di reato? La prima ragione è la ragione di odio di trascolo, data l'opportunità di evitare alla vittima di reati sessuali di essere sottoposta a indagini, quindi processi caratterizzate da domande particolarmente in battaglie della private, la vittima soppostava delle indagini odiose che implicavano grandi sofferenze, talvolta superiori a quelle già facite e peraltro anche in presenza di imputati, sprettanti, arroganti, difensori che in freggio assoluto di ogni etica professionale e morale ponevano le domande, quindi costringendo la vittima al ricordo, a raccontare e quindi una sequenza di oltraggiose infame subite. La seconda ragione è di politica legislativa, data la considerazione che il bene protetto, la libertà sessuale è ugualmente resa, sia nel caso della condizione carnale che degli atti di libidie, per cui l'unica distinzione che si può effettuare è quella che riguarda materialmente la graduazione della pena. E poi c'è anche da dire che l'aver previsto un'unica fattispecie ha eliminato il problema dell'accertamento che spesso si doveva fare con il sede processuale al fine di qualificare il fatto come atti di libidi viene consumati, violenza carnale consumata, tentativo di violenza carnale e tentativo di atti di libidi. Ecco perché il legislatore ha unificato il frutto della nozione di atti sessuali. Però all'interno di questa nozione sia la dottrina che la durissprudenza si sono evolute nel loro pensiero, perché se l'orientamento in basso nei primi anni di applicazione durissprudenziale propendeva per una concezione soggettiva dell'atto sessuale e quindi faceva riferimento alle scienze mediche, sociologiche, crinologiche, per cui si riteriva che per configurarsi l'atto sessuale dovesse comunque integrarsi quantomeno un minimo di coefficiente di corporeità. e naturalmente poi si richiedeva anche l'appagamento sessuale che assumeva anche rilevanza la finalizzazione dell'atto sessuale all'appagamento del desiderio sessuale. Attualmente la concezione in basso la dottrina in durissprudenza è quella oggettiva, e cioè è quella che naturalmente ha preso piede con la sentenza del 1998-27 aprile, la cosiddetta sentenza di Francia, che è la prima sentenza di incustazione oggettivistica, che è stata seguita poi dalla sentenza Tomasetti, alla numero 12.762 del 13 febbraio 2003, praticamente tutte queste sentenze hanno unificato la nozione di atti sessuali in un'unica categoria generale. E quindi l'agricprudenza ha, nel corso delle sue pronunce, ampliato notevolmente il concetto di violenza sessuale, per cui adesso vi si ricomprendono anche le modalità repentine e insidiose della condotta. Ora, se diamo per scontate quelle che sono le zone genitali pubiche, anali, orali, mammellari, su cui vi è ormai un'assoluta concordia in dottrina e in durissprudenza, le ipotesi limite su cui vi è tuttora, dopo un mirosi anno dall'entrata in vigore di questa legge del 1996, e ancora ecco contrasto tra la dottrina e l'agricprudenza, sono le seguenti. Allora, il toccamento o palpeggiamento del fondo piena. È stata discordante l'agricprudenza di legittimità in tema di pacca sussedere. Già prima si riteneva irrelevante la condotta ad equa se la stessa pacca risultava repentina e isolata. Questa è stata una pronuncia del 2001, la numero 623. Poi, quattro anni dopo, i giudici ci hanno ripensato e quindi nel 2005 c'è stato questo capovolgimento e gli ermellini hanno affermato che anche se fugace la pacca sussedere, rappresenta pur sempre un fatto perseguibile penalmente. Questa è una pronuncia del 2005, la numero 876. E hanno sentenziato anche che il palpeggiamento del sedere intenderà gli estremi della violenza sessuale. Poi c'è intervenuta nel 2007 una sentenza, la numero 19.718, sulla toccata fugace a seno di una donna in topless. Anche questa è stata considerata violenza sessuale. Poi, il toccamento della coscia. La corte di percezione, nell'esaminare il caso di un dentista che ha fatto delle avanze nei confronti della propria assistente, ha ritenuto che alla pari del seno anche la coscia rientra tra le parti, diciamo, rientranti nella gamma dell'appetibilità sessuale e quindi ha confermato la sussistenza del reato sessuale. La mano morta. Commesse violenza sessuale, chi fa la mano morta? Perché questa è una chiara connotazione sessuale. Questa è una sentenza recente, la numero 12.101 del 20 marzo 2009. Poi, off-limits è anche il corso, perché per i giudici può essere considerato zona erogena e quindi accarezzarlo per i giudici non può costituire reato. Questa è una sentenza del 2003 che ha reso quindi definitiva la condanna per assi sessuali per un signore che aveva fermato per strada una ragazzina, il motorino, le aveva messo addosso delle gocce di profumo e le aveva accarezzato i posti. Se non c'è il consenso del soggetto passivo, anche il palpeggio delle ascelle, è una violenza sessuale. Qui è la cassazione penale numero 4538 del 29 gennaio 2008. Poi può essere violenza sessuale anche la strusciatina in discoteca dell'uomo vicino al fondo piena della donna. Questa è la numero 30.851 del 2008. Praticamente rimane adesso il toccamento del piede, il cosiddetto piedino. L'unico quindi sfogo che la Cassazione sembra concedere è fare piedino. Il gesto infatti di San Cico, la sentenza 2510 del 2000, non costituisce atto di libidine, pertanto non è penalmente punibile trattenere il piede di un'altra persona tra i sopi. Quindi da questa antianoramica potete vedere bene che da tempo la distrugenza della corte di Cassazione tende ad allargare le maglie della violenza sessuale, anche in maniera misurata. Per cui è arrivata a considerare penalmente perseguibili, nel 609 bis, anche delle condotte che al limite potevano avere una connotazione penalistica più blanda. E questo va detto. Poi però le sentenze della Corte Suprema sono state spesso a favore delle donne. Però non sono mancati anche i casi diciamo clamorosi e controversi. Abbiamo avuto le dispute in materia di stupro con i jeans. La pronuncia che fece questo al cuore fu quella del febbraio 1999, che stabilì l'impossibilità di parlare di violenza nel caso in cui la vittima portasse i blue jeans. Perché l'indossare i blue jeans significava essere consentiente a causa della difficoltà di spilare i pantaloni senza la fattiva collaborazione di filoni rossa. E quindi si riteneva che l'indumento in questione fosse impreseicamente incompatibile con una condotta di violenza sessuale dal momento che appunto i jeans risultano difficili a filare. Questa era la numero 1636 del 98. Da allora poi ci sono state una serie di marce indietro per cui è giunto il difensamento della Corte che ha sostenuto in più di ogni occasione ormai che la violenza sessuale è anche possibile se la vittima indosserà i jeans. E l'ultima sentenza è la numero 40.542 del 2007. Diciamo controverse ci sono state anche in materia di bacio sulle labbra perché c'è stata anche qui una questione. Quindi se in generale il bacio sulla bocca attinge una zona considerata erogena, secondo la Corte perde tale atto un connotato sessuale in particolari contesti sociali e culturali. Per esempio nella tradizione russa il bacio sulla bocca è una forma di saluto, quindi non è un atto sessuale perché stessa cosa in alcuni contesti familiari o parentali dove il bacio sulla bocca tra i parenti è un semplice segno di affetto. E questa è la sentenza 25.112 del 2007. Quindi si è un po' evoluto il concetto di sucro nella discutenza italiana nel corso degli anni e sono sempre stati inseriti sempre via via a nuove fatti specie. La Suprema Corte è intervenuta ottivamente nel 2009 e nel 2010 con due sentenze molto interessanti. La numero 11.560 del 23 marzo 2010 praticamente ha stabilito che chi partecipa ad uno stupro, non come membro attivo ma come testimone che quindi filma lo stupro, è giudicato dalla legge come stupratore. E quindi anche filmare un abuso è l'abuso, è l'umiliazione per la vittima e quindi questa pronuncia contribuisce a cambiare un po' la definizione di quella di stupratore e pone sullo stesso livello la violenza fisica diretta e l'abuso del corpo archivo anche solo come oggetto filmato. A questo si aggiunge una sentenza del 12 ottobre 2009, la numero 39.718 che si è pronunciata in modo molto interessante in merito alla violazione dell'archività sessuale. Che cos'era successo? Una barista si era sottoposta a un intervento di chirurgia plastica al seno e uno dei clienti del bar in cui lavorava aveva deciso di verificare gli esiti per cui ha preso sulle ginocchia la donna e ha cominciato a palcare il seno, come intanto nessuno ha il coraggio di farlo, lo faccio io e dopo che ha palpeggiato ha anche espresso il suo giudizio tutto qua non sembra anche altro. Poi ci sono delle forme particolari di violenza sessuale gli atti sessuali con il conige, gli atti sessuali con la prostituta e la violenza sessuale sul luogo di lavoro. Vediamo bene. Per quanto riguarda gli atti sessuali con il conige la giurisprudenza è orientata a riconoscere la sussistenza del delitto in esame se l'atto sessuale sia stato compiuto nei confronti del conige di sessuali. Questo perché a nulla rileva il fatto che esista un rapporto di coppia coniugale o pariaconiugale nel caso si tratta di convivenza tra le parti, proprio perché all'interno di questo rapporto non esiste un diritto di esigere o di imporre la prestazione sessuale. E quindi la prima pronuncia si è avuta nel 2004, la numero 14.789. Questa poi è stata naturalmente avallata da un'altra pronuncia la numero 16.292 del maggio 2006. E poi quindi il dissenso si può ricavare naturalmente, ecco, il dissenso può essere espresso ma può essere anche tacito nel senso che si può anche ricavare implicitamente dalla particolare situazione di sopruso, di violenza che caratterizza diciamo il rapporto di vita tra il carnetice e la vittima. E quindi sostanzialmente c'è stato il caso di una donna che rifiutava silenzialmente il rapporto sessuale con il marito per evitare delle scenate davanti ai figli. E quindi questa è una sentenza, la numero 13.983 del 2008. Sempre questo diritto all'amplezzo che non esiste è stato considerato anche in una recente sentenza, la numero 26.345 del 2009. E poi abbiamo anche un'interessante pronuncia nei confronti che ha praticamente ritenuto integrare il reato di violenza sessuale il costringimento nei confronti dell'ex fidanzata ad avere dei rapporti utili, nonostante la stessa in quella occasione indossasse degli abiti succinti, perché naturalmente questa non è una circostanza che può essere vista come espressione di una forma di consenso. E anche questa è una sentenza recente, la numero 34.870 del 2009. Lui ci si impondo, anche nel 2010 abbiamo una sentenza, la 27.587, per quanto qui integra la violenza sessuale la condotta del marito che nonostante continui rifiuti a pratiche sessuali contro natura, quindi parliamo di sesso estremo, a cui veniva costretta la moglie con la forza, ignorando il suo distenso, imponeva il suo corpo sopra quello della donna e talvolta lo percoseva per affagare la sua libidina. Poi abbiamo gli assi sessuali con la prostituta, cioè la condizione sociale della vittima è naturalmente priva di milievo, per cui il legislatore ha comunque patelato il bene della libertà individuale e sessuale che appartiene anche a chi è dedito alla prostituta. E poi rischia una condanna per violenza sessuale il cliente della prostituta che dopo il rapporto non le dà il convento fatto. Questa è una sentenza recente del 17 dicembre 2009, depositata nel 2010, la numero 8286. Quindi sostanzialmente la violenza legittimità ha mostrato una particolare sensibilità verso gli episodi di violenza sessuale che vedono i rapporti sessuali a pagamento tra cliente e prostituta un terreno, diciamo così, fertile per il compimento di assi di violenza sessuale, proprio ostante questa situazione di sudditanza psicologica subita dalla lucciola nei confronti di chi paga il prezzo per l'ottenimento della pagamento sessuale. Poi abbiamo la violenza sessuale sul luogo di lavoro. Anche qui con un'interessante decisione di una fattispecie di violenza sessuale consumata dal superiore gerarchico nei confronti di una dipendente, la Corte di tassazione con una sentenza, la 12.738 del 2008, si è sorfermata su un rapporto sessuale che esiste tra la legge di matto ad causa di un'organizzazione sindacale rappresentativa degli interessi della lavoratrice, praticamente questa signora era un appartenente alla Polizia di Stato e quindi per questo reato di violenza sessuale la Cassattone ha detto che il reato di violenza sessuale commesso sul luogo di lavoro leve l'integrità psicofisica del lavoratore e le compromette la stabilità psicologica e quindi il rapporto con la realtà lavorativa. E poi la funzione del sindacato si estrica anche attraverso la tutela e la difesa di una condizione lavorativa che non deve essere segnata da episodi che possono quindi intaccare la dignità lavorativa della persona. E poi anche che la condotta integrante di violenza sessuale è idonea a creare danno non solo alla vittima ma anche al sindacato. Ora abbiamo visto quindi diciamo tutte le fattispecie del 609 BUS. Naturalmente è stata prevista anche un affenuante della minore gravità che è quindi una circostanza speciale ad effetto speciale, ex articolo 63, ex articolo con il codice penale, che ricorre quando con riferimento ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell'azione si ritiene che la libertà personale o sessuale della vittima sia stata compressa in maniera meno grave. E ci sono poi delle forme di violenza sessuale aggravata previste dall'articolo 609 TR. Nel caso, e quindi in questo caso, la pena è della reclusione da 6 a 12 anni che i passi sono commessi in danno di persona che non ha compiuto gli anni 14, oppure avvalendosi di armi, sostanze narcotiche, alcoliche, superfacenti, da persona travitata o che timoli la qualità di pubblico ufficiale, oppure su arrestato o detenuto, o nei confronti di chi non ha compiuto 16 anni, se il colpevole ne è l'ascendente, genitore, adottivo o tutore. Poi invece il secondo FOM ha intervenuto per porre di me una situazione, un fenomeno molto triste, che è quella della commissione degli atti sessuali nei confronti di una persona che non ha compiuto ancora i 10 anni, per cui è previsto una pena della reclusione da 7 a 14 anni. E questo naturalmente è l'effetto di molti correttivi del pacchetto sicurezza, la legge quindi numero 94 del 2009, che ha naturalmente anche previsto che questa violenza sessuale aggravata e quella anche perpetrata all'interno o nelle immediate vicinanze dell'istituto di istruzione frequentato dalla persona offesa. Ora, la prova della violenza sessuale si presenta molto delicata e quindi particolarmente problematica perché nella maggior parte dei casi il reato viene commesso in attento di testimoni esterni e soprattutto se viene consumato tra le mura domestiche. E' quindi un reato che difficilmente ha spettatori o testimoni e che quindi di conseguenza, a meno che non ci siano proprio dei segni evidenti e specifici e quindi documentabili, in larga parte si fonda sulle dichiarazioni rete dalla persona offesa. Quindi accade il pezzo che l'unico test diretto della violenza che quindi può essere anche assunto nel dibattimento sia proprio la persona offesa anche se è costituita particibile. Quindi il giudato ha dato la possibilità alla persona offesa che naturalmente si costituisce anche partecipare di poter essere sentita e quindi poter fornire le sue dichiarazioni. La testimonianza quindi è l'unico elemento, a volte la maggior parte dei casi, su cui poi il magistrato dovrà basare il suo giudizio. Quindi la valutazione del giudice sulla sostenza dell'elemento oggettivo non dovrà fare semplicemente riferimento alle parti anatomiche aggredite, quindi al grado di intensità critica del contatto che è temporato, ma deve tener conto proprio dell'intero contesto in cui il contatto si è realizzato, quindi tutta la dinamica intersoggettiva. E quindi questo naturalmente impone al giudice di procedere anche con cautela e con rigore nella valutazione della sua testimonianza, tanto più ecco che in una materia come la violenza sessuale è possibile anche sempre utilizzare la denuncia penale a fini ricattatori. E quindi, insomma, abbiamo concluso la violenza sessuale, come se c'entrano il giudizio, andiamo a vedere la violenza sessuale di gruppo, la violenza sessuale sui minori e la corruzione dei minori. Però forse, magari ecco, vuole intervenire la dottoressa Ciancola, diamo la possibilità a loro anche di aspettarsi un attimo e io poi continuo dopo. Oppure forse se vuoi, tu come, non ho problemi, mettetevi da favore, ci faccio. Io si parlo sempre, non c'è problema. Forse vogliamo, come il dottore deve partire alle... Allora, facciamo un desiderio, tu così poi mi dai il gancho per, diciamo, le gane anche con il sforzo di un minore. Buon appetito a questo momento. Sì, grazie.